E' l'ora del caffè e quando c'è il caffè che è ancora fumante c'è la rassegna stampa di FanoTV sul canale 17. Siamo qua in diretta, sono le 7.30 ma salutiamo anche quelli che il caffè lo prendono alle 13.30 quando c'è la replica dell'appuntamento che apre l'informazione su FanoTV E allora partiamo dal calendario e poi vediamo il tempo Allora oggi la chiesa fa memoria della Beata Vergine Maria Addolorata Il sole è sorto alle 6.47 e tramonterà alle 19.19 Oggi cambia il tempo, cambia il tempo e arriva la perturbazione che porterà la pioggia e ce la terremo insomma più o meno fino a venerdì prossimo stando a quelle che sono le previsioni del bollettino meteo della protezione civile delle Marche che per oggi dalla tarda mattinata prevede deboli precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio che andranno ad esaurirsi nel pomeriggio. Le temperature sono in diminuzione nei valori massimi i venti saranno di brezza tesa o moderati, sud occidentali nella parte interna della regione invece sud orientali lungo la costa. Il mare sarà mosso, mosso nel pomeriggio in particolare lungo la costa anconetana e pesarese. Per domani ecco la situazione ancora peggiore rispetto a quella di oggi, domani infatti avremo rovescio temporali sparsi al mattino più probabili nel pesarese, diffusi nel pomeriggio nel settore centro-settentrionali e sparsi nel settore invece a sud delle Marche. I fenomeni saranno attenzione localmente persistenti e anche di forte intensità. Diminuzione in diminuzione delle temperature in particolare nei valori minimi. Poi c'è la rotazione dei venti in nottata domani, il vento sarà forte addirittura di burrasca lungo il crinale appenninico. Andiamo a vedere l'ultima giornata in esame per questo fine settimana. La domenica migliora un po' sulla costa, ancora qualche residuo, qualche precipitazione residua con rovescio temporali che comunque saranno in esaurimento nelle prime ore della giornata di domenica. Scusate, domenica il cielo sarà inizialmente nuvoloso, poi piano piano si tornerà al sereno. Le temperature sono senza variazioni di rilievo per la giornata di domenica, continuerà a soffiare il vento. Come dicevo, il tempo sarà instabile anche nella prima parte della prossima settimana e questo almeno fino a venerdì. Apriamo adesso i quotidiani e il carlino, il corrido adriatico. Il carlino in primo piano punta sul degrado che ancora resiste a Pesero. Nella foto c'è il fotomontaggio di Matteo Ricci, sindaco della città di Rossini. Non basta l'ordinanza con le multe per far risistemare gli alberghi chiusi e abbandonati dunque a quanto pare la battaglia, la lotta contro il degrado un po' più dura rispetto a quello che probabilmente aveva in mente il sindaco Ricci. Caccia invece al ladro della radiografia di Valentino Rossi, il furto dei referti alla gamba del campione di motociclismo, la polizia postale indaga e chiaramente se verrà individuato il responsabile o i responsabili rischiano anche il licenziamento. Intanto l'azienda ospedaliera ha chiamato i dipendenti venuti in contatto con questi file copiati e poi pubblicati sui social network. c'è anche la cronaca nelle pagine interne, la vedremo tra poco, un violento schianto, un'ambulanza è finita contro un tir sulla Val Cesano, cinque feriti, due gravi. E poi ancora i vigili che a Pesero protestano con il Comune, noi lasciati solo contro gli abusivi, sono ancora strascichi dalla fiera di San Nicola, vanno coinvolte le altre forze di polizia. E allora il Corriere Adriatico che in primo piano pubblica la notizia dei poliziotti che vanno a caccia di assuntori di sostanze stupefacenti tra i giovani, giovanissimi e adesso stanno passando il setaccio i pullman, poliziotti che salgono sui pullman per frenare lo spaccio. Telecamere anche sui mezzi di Adriabus, Ricci invece annuncia permessi ai profughi che si comportano bene in città e dunque annuncia che ci sarà la possibilità con un permesso a tempo di farli rimanere in Italia e quindi nella provincia pesarese, nella città di Pesero. La figlia di Biancaneve sposa la regina cattiva, nozze stile Once Upon a Time per Arianna e Angela, la bella favola di due cosplayer. Questa è la pagina del Corriere Adriatico, ma c'è stato un incidente, un incidente ieri a Fano intorno alle 19, ve ne abbiamo dato conto per quello che certamente potevamo, noi andiamo in onda alle 20.30 quindi è difficile immediatamente avere subito le informazioni ma siamo riusciti ad avere grazie a voi, grazie alla vostra collaborazione, grazie alle vostre fotografie, ai vostri racconti che siete magari sul posto e che quindi ci date, che poi naturalmente verifichiamo, ma insomma siete le nostre prime telecamere con i vostri occhi, abbiamo subito visto che l'incidente che ci stavano segnalando era comunque grave, lo riporta perché poi ha avuto anche più tempo per chiaramente per scrivere e cercare notizie, il Corriere Adriatico a pagina 41, stiamo parlando di questo grave incidente che dicevo è avvenuto intorno alle 19 di ieri, sulla Adriatica all'imbocco del Cavalca Ferrovia, siamo poco lontani dal Metano, grave un 17enne in motocicletta, falciato da un anziano al volante, il ragazzo è stato investito in pieno dall'auto, il conducente di 87 anni ha detto di non averlo visto e lì sapete bene chi è di Fano sa com'è la strada, il lungo rettilineo di Viale Piceno e di Via Pisacane è stato teatro ancora una volta di un drammatico incidente e qui c'è la ricostruzione di ciò che è avvenuto, il ferito gioca nelle giovanili del Fano portato ad Ancona a fratture al bacino. Spostandoci un po' più verso l'entroterra, ieri c'è stato un incidente tra un'ambulanza e un tir, 5 i feriti, questo è il bilancio, due di loro sono gravi, tremendo schianto sulla statale della Val Cesano tra San Lorenzo in campo e Pergola, questo è il risultato, sono le fotografie, c'è anche l'ambulanza, l'eliambulanza vedete che è atterrata lì vicino, queste sono le fotografie, gli scatti a bordo del mezzo di soccorso, anche un malato che era stato a Fano per svolgere la terapia. Tutto è successo ieri pomeriggio intorno alle 15.30 sulla strada statale 424 della Val Cesano nel territorio di San Lorenzo in campo, in prossimità del confine con quello della città dei bronzi. Questo è il resto del Carlino e questo è il pezzo di Sandro Franceschetti che potrete leggere appunto comprando il quotidiano. Anche il Corriere scrive di questa ambulanza che è finita contro un tir con 4 feriti, intervengono anche due elicotteri, il malato e la moglie ricoverati a Pesaro, il camionista invece è rimasto in leso, un violento urto sulla cesanense, il mezzo della Croce Rossa si è ribaltato su un fianco, a bordo un paziente rientro da una visita. Il più grave è l'autista, l'autista dell'ambulanza, un volontario estratto dai vigili del fuoco, lui e il collega e la collega anzi soccorretrice sono stati portati all'ospedale regionale. La dinamica viene ricostruita dai carabinieri, il conducente ferito ha riportato un grave trauma cranico. Anche qui Marco Spadola scrive su tutto quello che ha visto e ha raccolto nelle immediatezze appunto dell'incidente. Sulla pagina di Fano invece c'è il racconto di un episodio che è avvenuto due giorni fa all'ospedale Santa Croce. Due sacerdoti che stavano lì in ospedale a un certo punto sono stati avvicinati da una donna che ha cercato di estorcere dei soldi. Rapinatrice, una rapinatrice che ha aggredito due preti, due preti con le forbici, loro però sono riusciti a cacciarla via. È successo all'ospedale Santa Croce, l'articolo è di Elisabetta Rossi, il cappellano Don Marco e il suo vice si sono difesi facendosi scudo con una sedia. E poi le fotografie, guardate qua a centro pagina, di questo uomo che intorno a mezzogiorno e mezzo di ieri indossava solo i pantaloni perché era a petto nudo per abbordare le studentesse. Lì davanti c'è la scuola Olivetti, questo uomo è stato allontanato dai passanti, è successo in via Nolfi. Invece adesso andiamo a Pesaro, anzi no, in una località, Roberto Damiani non ha scritto il luogo, ha scritto genericamente che è un paese vicino a Urbino, dove è successa una storia terribile di una mamma e qui già, insomma, quando parliamo di mamme e di bambini e di figli si dovrebbe pensare all'amore all'ennesima potenza. In realtà invece è tutto il contrario. Questa mamma, che ha problemi anche di alcol, ha picchiato per diverso tempo i figli che a un certo punto, esasperati, che cosa hanno fatto? Hanno preso, si sono dati la mano e sono scappati di casa. Li hanno intercettati un po' di gente che passava di lì, si sono insospettati e hanno chiamato i carabinieri. Si sono insospettiti e hanno chiamato i carabinieri. I bambini sono fuggiti in strada, dicevo, una vita da incubo, sono tre fratellini. Ora naturalmente sono stati tolti alla madre, il sostituto procuratore di Urbino, Irene Lilliu, non ha voluto sentire ragione, ha preso e ha tolto immediatamente la patria potestà alla donna. I minorenni sono di 9, 11 e 12 anni e hanno confermato tutto davanti alla GIP, tutte le circostanze. Torniamo a Fano, sul resto del calino. Duomo GPA, colpo di spugna del Ministero. La società non può più riscuotere i tributi. Il Comune di Fano deve trovare nuovi affidatari. Dunque la Duomo GPA è stata ufficialmente cancellata dall'albo dei soggetti abilitati alla riscossione e all'amministrazione, l'amministrazione fanese corre ai ripari per non paralizzare l'attività tributaria comunale. È stata una giornata convulsa ieri nella sede del municipio in via San Francesco, dal momento in cui è comparsa sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze la delibera di cancellazione della Duomo dall'albo ministeriale. Urbino, Gambini dalla Cina, Gambini dal sindaco, con furore, gli aumenti, eredità del Partito Democratico. Il sindaco replica all'opposizione sugli aumenti delle tariffe dei parcheggi che erano previsti sin dal 2014. Poliziotti e telecamere invece sugli autobus contro lo spaccio agli studenti. Il problema si ripropone con la riapertura delle scuole. Il sindaco Ricci ha incontrato i vertici di Adria Bus. In effetti sono le 7.44, quindi salutiamo quelli che stanno andando di corsa e ci guardano in diretta perché hanno i figli da portare a scuola. Allora in bocca al lupo a tutti quanti. Aggressione alla fiera, andiamo avanti, noi chiudiamo, stiamo quasi in chiusura. Aggressione alla fiera di Pesaro, noi vigili lasciati soli, sindacati duri dopo l'assalto dei venditori abusivi alla fiera di San Nicola. Poi le mamme free vax, parliamo, visto che inizia oggi la scuola, anche di tutti i bambini che devono essere vaccinati, altrimenti non si può andare a scuola, lo ricordiamo, ma ormai lo sapete. Niente materna, i nostri bambini restano a casa, i genitori sono contro l'obbligo dei vaccini e vorrebbero accedere a dei pre-esami. La pagina di Fano del Corriere metro minuto, una mappa per muoversi in città a piedi, cronometrati i tempi di percorrenza, spesso si fa prima che in automobile e questa si è colta l'occasione della settimana europea della mobilità sostenibile che si terrà dal 16 al 22 di settembre per varare un progetto composto da tre proposte con le quali il Comune di Fano intende sensibilizzare i cittadini ad usare per i loro spostamenti mezzi alternativi alle auto, tra cui anche le proprie gambe, per chi ce le ha buone e per chi può andarci tranquillamente. Poi c'è una pagina tutta dedicata alla casa, Casa Moderna e Consapevole, in mostra tutte le novità, un'iniziativa che da oggi a domenica si terrà al Pincio di Fano, una bella cornice che ospiterà Aria, così si chiama questa iniziativa che già è al secondo anno. Insomma al Pincio da oggi a domenica c'è Aria, stand e workshop su risorse e tendenze. Andiamo subito sulla pagina della Valle del Cesano per parlarvi dell'Abbazia di San Gervasio che oggi viene celebrata da un annullo speciale, cerimonia con le scuole in piazza, un francobollo delle poste italiane che avrà appunto la facciata del monumento nazionale Abbazia di San Gervasio. Poi Senigallia, ultime due pagine della nostra assegna stampa, contributi volontari ma non troppo, aiutare però è un dovere solidale, il preside dell'alberghiero scrive ai genitori, trasparenza sui versamenti, poi si possono scaricare. E poi l'ultima pagina è quella di cronaca, vende droga ai ragazzini, i carabinieri bloccano un nigeriano di 21 anni che spaccia i giardini morandi, nei guai anche un minorenne che gli ha dato 5 euro per farlo allontanare. Mentre la fotografia è di questo incidente, gli piomba un'auto sul tettuccio, solo escoriazioni. Infatti guardate dove si è posizionata dopo al termine di questo scontro la Fiat, penso che sia una Fiat Punto che è andata su una Fiat 500 o meglio la 500 che è andata sotto... vabbè la dinamica è tutta sul giornale, la leggete. Grazie, è tutto per la rassegna stampa di oggi, noi ci rivediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia e questo è il numero per le vostre segnalazioni. Buona giornata a tutti.